Ben ritrovati amici di Oké Watch Italia, io lo so che oltre ad aver già letto il titolo avete capito guardando quest'immagine e la webcam qua sotto cosa andremo a fare e quindi mi raccomando andiamo subito a spolliciare in su perché questo format a me piace tantissimo per chi mi segue su Twitch lo sa che ho ritrovato delle mie vecchissime carte di Yu-Gi-Oh e ho scoperto che valgono una vagonata di grana e quindi piano piano le sto valutando tutte e poi forse un giorno le venderò, però bando alle ciance noi qua oggi siamo a sbustare carte Pokémon carte Pokémon che oggi vuol dire un'altra box, un'altra confezione di Orbitly V qua dentro ci sono le bustine di voltaggio sforgante quasi sicuramente il che vuol dire che qua dentro c'è il nostro Pikachu che vale almeno 20.000 euro noi andiamo a squarciare con estrema gentilezza il cartone sperando di non spezzarci le dita il cartone non ci serve quindi via cartone la plastica ci serve? No perché tanto qua Orbitly V l'avevamo già visto l'altra volta ma se volete ve lo faccio vedere lo stesso ma non credo che ve ne freghi poi così tanto via plastica non la voglio più vedere scusatemi allora Anakin sta scoppiando di... eh che cosa sta succedendo qua dietro? eh perché è sul divano che dorme allora lo sapete qua dentro ci sono la Giant e c'era la Giant e la carta di Orbitly V con un codicino eccoci qua con le nostre due carte anzi due bustine di svoltaggio svolgorante via boom una sintonia smentale boom e un altro spada e sculo eh detto anche spalla e sculo però ci manca qualcosa? sì ci manca Gigio Gigio eccolo qua il bilancino grigio niente basta sto carizzando ragazzi oggi sono un po' carico perché ho visto le carte di Yu-Gi-Oh! e allora beh sono preso bene ed eccoci qua come sempre non serve a niente però noi lo facciamo accendiamo Gigio e andiamo a pesarci le bustelle ci bustiamo prima la pesa di spada e sculo boom che è 22,12 ok la mettiamo qua perché per il momento è la più pesante non so perché ma per il momento è la più pesante andiamo a vedere sintonia mentale 22,13 comunque è la più pesante quindi sbam va sopra spalla e sculo tac poi abbiamo la voltaggio svolgorante di Zeleby che ci dice che è 22,16 come l'impressione che non ci sarà veramente una mazzetta qua però almeno mi levo un po' di spazio e poi abbiamo qua Orbitly Gigi Gigi che è 22,04 è addirittura più leggera delle altre bustine di cacca che probabilmente saranno quindi le sbustiamo così al contrario no si le sbustiamo così va bene allora on off off spegniamo Gigio e partiamo con l'ultima bustina di svoltaggio s-s-s-s-svolgorante vai allora apriamo boom qualtri che cos'era da quattro io ho cioè sbusto talmente poco che non mi ricordo mai com'è la situazione di sbustamento cavolo l'ha aperta veramente bene secondo me era un po' scammata ma cioè come si sta aprendo bene no questa è scammatissima adesso ho capito perché sono tutte leggere perché probabilmente non ci troveremo manco il codice allora boom codice leviamolo giriamo uno due tre e quattro vabbè proviamo così tanto non c'è niente giriamo ok si è giusto c'è un'energia energia fuoco stavo per dire qualcos'altro però energia fuoco assolutamente niente di interessante maitiena very good vista teteloscopica tu charmillions cliffhary pinnacle osha vat sandile detto anche sundial poi tello fatto di pongolo attenzione abbiamo la prima holo reverse che è una bellissima staff lega e poi dietro non ci sarà veramente niente perché c'è bidril io sentivo l'odore di bidril quindi ragazzi poca roba mettiamola qua giusto di rappresentanza per far vedere che abbiamo già sbustato la prima bustina andiamo con la seconda che è spada e scudo in spada e scudo non ho idea di cosa ci possa essere però credo che c'è qualche tipo qualche gold o sbaglio apriamo cioè ragazzi è attaccata con il vinavil cioè guardate come si aprono ma senza senso ma mai vista una roba del genere boh non lo so via codicino facciamo il trick 1 2 3 4 sbam io conto perché potrei sbagliarmi lo sapete che se non conto da 1 a 9 poi il 10 non so da che parte è però vabbè energia stranamente velox ball ricerca di energia galvantula cintu crogunk meodigalar scorbanni sinistì seeking holoreverse avete visto che ho imparato e dietro non c'è niente perché c'è l'apras che comunque è bello l'apras è un pokemon bello però non c'è assolutamente niente io ve lo dico ragazzi cavolo lasciatemi almeno il like lo so che non troverò niente ma lasciatemi almeno il like e soprattutto lo sapete che il 90 per 5 95 per 100 90 100 per 5 di voi non è iscritto al canale e perché? e di cosa stiamo parlando? poi in live venite quando vedete il video come farmare bam subito guardare ma il like non lo lasciate non vi iscrivete manco e non va buono allora cosa c'era? sintonia mentale qua c'era qualcosa di buonino se non mi ricordo male cosa molto probabile però anche questa sarà super scammata perché attenzione no questa si è aperta rompendosi quindi probabilmente non è scammata guardate come guardate come si apre male bello quando fa così bello quando fa così allora 1 2 3 2 fear l'ho fatto 4 sì ok energia acciai stavo dicendo argenzio però non c'è l'argenzio quindi non argenzio lumineon normium z 2 punti azione ok happy mamma mia che odio poi onyx bello bello onyx mi piace un sacco fletching snorven mark oh exgut adesso dovrebbe esserci la laolo reverse di krugnal bella questa questa reverse mi piace un sacco con ste goccioline qua e sotto sotto assolutamente niente perché c'è un non lo dico neanche perché chi se ne frega non c'è nulla via fuffa ragazzi fuffa bello sto e voi avete detto vai tranquillo fa perché tanto dentro c'è c'è pikachu io l'ho sentito io l'ho sentito da voi io l'ho sentito apriamo c'è un joltik cavolo ragazzi almeno abbiamo trovato joltik anche questa si è squarciata non è non è scammata 1 2 3 e 4 4 energia sempre quella nadslif shackle bellezza bellezza cioè siamo sicuri che è bellezza discutibile cioè comunque è una bella ragazza va bene va bene joltik cavolo joltik non lo sapevo mudbrae pikipek attenzione sidot attenzione da vimodrone abbiamo esattamente un sendail una holo di una holo reverse infatti i pignoli di elecross e dietro attenzione c'è almeno una v cavolo su 4 bustine una v che sarà fuffa perché non ci sono v interessanti ed è zarude che credo di averne trovato tipo 12.000 ragazzi se la volete passate da queste parti e ve la regalo chi se ne frega cavolo che diseffige che diseffige gigio oh la prossima volta vedi di gigiare un po' meglio perché qua gigio non ha gigiato ragazzi io vi ringrazio per aver supportato il canale guardando questo video fino alla fine e per aver lasciato soprattutto il like ozzo mi raccomando ai vostri amici dite guardate che c'è uno che è fuori di testa che ci racconta mega storie interessanti in live quando fare live e andate a vederlo pure voi non lo so va bene ragazzi alla prossima oggi sono fuori di testa bella lì ciao ciao